Guardando i punti raccolti nelle ultime partite, Virtus Entella e Fiorenzuola stanno vivendo due momenti di forma opposti. I bianco-celesti sono la squadra migliore del girone B di Lega Pro, 13 punti nelle ultime 5, 4 vittorie e un pareggio. La Fiorenzuola, una delle peggiori, 3 punti. Solo le ultime 3 della classifica hanno fatto peggio da fine gennaio a oggi. Domenica alle 14.30 al comunale non sarà solo questione di matematica e i chiavaresi dovranno offrire una prestazione solida come quella di Ancona. All'andata era finito 1-0, era stata sufficiente una rete di fagioli all'85esimo. Era fino a ottobre e gli emiliani sembravano più in palla di adesso. L'allenatore dell'Entella, Gennaro Volpe, chiede ai suoi molta attenzione. Abbiamo fatto una buona settimana, abbiamo avuto la settimana a disposizione per preparare questa partita. Sappiamo che ogni partita ha le sue insidie, sappiamo di incontrare una squadra che sta facendo un ottimo campionato. Ci aspettiamo una partita difficile, sapendo che ci vorrà calma, ci vorrà pazienza, ci vorrà molto furore perché il risultato di domani è di estrema importanza. Dopo gli emiliani, due sfide ravvicinate molto importanti per la Virtus Entella. Sabato 11 in casa della Capolissia Reggiana e martedì 14 in casa del Cesena, che al momento è terzo, a un punto in distanza dall'Entella seconda. In queste due occasioni potrebbe rivedersi anche Joshua Tencorang, il centrocampista, fermo due mesi e mezzo per un doppio infortunio, una frattura, una costola e uno stiramento al bicipite femorale destro. Sabato pomeriggio è sceso in campo con la primavera di Melucci e ha segnato due gol. Non era facile dopo due mesi e mezzo rientrare, devo ancora riprendermi a stare in forma. Ci sono quasi, sto lavorando con i prof che mi stanno dando la mano, anche il gruppo, il mister, e sono contento che sto rientrando in campo.